Mi candido sindaco di Taranto con il movimento Taranto senza Ilva trasversalmente ai partiti, né centrodestra né centrosinistra né Movimento 5 Stelle, voglio dare risposte alla città, quelle risposte che ho cercato in tanti anni di giornalismo, ma che le amministrazioni varie che si sono succedute non hanno mai dato, perché il cittadino è il pollo da spennare, è in campagna elettorale e attraverso le tasse. La vivibilità urbana, certamente sarà uno dei punti fermi della mia futura amministrazione. Ci troviamo a Lama, presso la circonvalazione dei fiori. Guardate il manto stradale come è ridotto, è pazzesco. Ci sono degli avvallamenti, uno accanto all'altro, uno dietro l'altro, frutto dei lavori che sono stati eseguiti da varie ditte per conto dell'acquedotto pugliese. Guardate qui cosa si è creato, credo per la realizzazione della rete fognaria. In pratica viene fatto lo scavo, si butta un po' di asfalto e si va via. Non si rappezza in modo uniforme, ma si vengono a creare avvallamenti. Abbiamo qui queste dune e cunette, passatemi l'espressione. È un arlecchino questo manto stradale fatto tutto di toppe e rappezzi. Non vi dico poi cosa succede con la pioggia. Dei rischi ovviamente per gli automobilisti e dei rischi anche per chi attraversa a piedi la strada e ovviamente rischia di cadere, anzi molte volte è caduto. Ma la cosa più assurda che vi fa capire il menefreghismo con cui vengono realizzati i lavori, ecco qui c'era un tombino. Il manto stradale era sprofondato. Cosa si fa? Si butta così in maniera vergognosa dell'asfalto, del catrame, appunto sul tombino. Come se nulla fosse. Si copre il tombino perché l'importante era rappezzare il buco, il fosso che si era aperto. Ecco l'incapacità amministrativa dell'amministrazione Melucci, quella di non far sì che il territorio, le nostre strade venissero rispettate da chi esegue i lavori. Questa è proprio la cifra che denota un'amministrazione che ha navigato a vista, che ha saputo solo tagliare nastri, fare inaugurazioni giusto per gettare, come dire, fumo in faccia ai cittadini e agli elettori. Un'amministrazione che evidentemente non ha mai controllato questi lavori e se li ha controllati quali sono gli effetti? Caro Melucci, il settore lavori pubblici avrebbe dovuto seguire passo passo i lavori di scasso, di scavo, di riasfaltatura realizzate dalle ditte. La cosa o non è avvenuta proprio o si è avvenuta con risultati disastrosi. Ecco perché, caro Melucci, tu non sarai più sindaco di Taranto. Perché i cittadini che pagano le tasse sono stanchi di vivere in questo stato di degrado. I cittadini delle periferie non sono cittadini di serie B. Tu hai pensato soltanto a mettere le luci in via di Palma e in via d'Aquino. Poi le periferie sono figlie di un dio minore, sono cittadini di serie B, sono abbandonati a se stessi. Questa, caro Melucci, è la rinascita, questa è la semina appunto, sono i semi della rinascita che tu dici di aver sparso per tutta Taranto. Tu hai fatto i manifesti, hai messo i cartelloni con la scritta stiamo seminando la rinascita. Cosa hai seminato? Le buchi hai seminato? I lavori fatti in maniera pedestre? Guarda qui, guarda, guardate qui. Questa è la città di Taranto, questa è la città di Taranto, un manto stradale, ripeto, che è un percorso di guerra. Sembrano che siano cadute le bombe, per come è disastrato, dissestato. Guardate qui, è un abito di arlecchino per quante sono le toppe e i rappezzi. Ma non voglio dire altro, voglio dire che un sindaco deve ripristinare innanzitutto una normalità, neanche l'ordinario, caro Melucci, hai saputo fare. Ti hanno mandato a casa e devi rimanere a casa, non sarai più rieletto. Ora mi candido con la mia storia, con la mia esperienza, con le mie battaglie, mi candido sindaco, con la mia competenza amministrativa, essendo un laureato in giurisprudenza con 110 lode, specializzato in diritto amministrativo e negli enti locali. C'è un'altra Taranto, una Taranto senza Ilva, una Taranto che vuole dare voce ai cittadini, vuole dare voce e lustro al centro come alle periferie. Lama non è certamente figlia di un Dio minore.